...feriti e sono tuttora in corso di verifica, alcuni quali sono gravi. Chiaramente noi ribadiamo quella che già è chiara, la nostra posizione, che è quella che va contro ogni guerra e al disarmo. Non vogliamo chiaramente specularci sopra, siamo certi che si farà giustizia in entrambi i casi. Quello che ci preme fare in questo momento è semplicemente stringerci forte attorno alle famiglie e dire con queste poche semplici parole che siamo con loro. Grazie Presidente, colleghi deputati, quelli che sono rimasti. Ieri è stato l'anniversario della morte di Vittorio Arrigoni, ucciso a Gaza esattamente due anni e un giorno fa. Vogliamo ricordarlo in quest'Aula. Vic è stato un grande, un grande davvero, ma non è stato un eroe. Ricordarlo come un eroe è fargli un torto. Ieri notte ho chiesto consigli alla rete, ho chiesto di inviarmi dei suggerimenti o delle frasi che avrei potuto citare. Ne sono iravate a centinaia. È stato così difficile scegliere, al fine non ho scelto nessuna frase in particolare, ma ho scelto comunque di utilizzare lo spirito arrivato dalla rete, uno spirito diretto, naturale, molto umano. Vittorio non era un eroe, era un ragazzo, un ragazzo molto in gamba. Quando descriviamo qualcuno come se fosse un eroe, automaticamente lo distanziamo da noi. Lo mettiamo su un piedistallo che ce lo fa percepire come un esempio irraggiungibile. Come vorrei essere come lui, potrebbe dire qualcuno, ma di persone così ne nascono due su un milione. Non è vero. Di persone come Vittorio ce ne sono tante, soprattutto potranno essercene tante. Vick, come molti, anche come molti qui, tra di noi, si è battuto per una causa che riteneva giusta e che ha seguito fino alla fine. Ha vissuto una vita sicuramente speciale e ha voluto affermare che i diritti umani sono universali e per questo vanno sempre difesi. Beh, questo non lo può fare soltanto Vick. Lo possiamo fare tutti quanti noi, dentro quest'aula e fuori da quest'aula. Ho pensato a lungo a come ricordare la sua memoria e credo ci siano tanti modi. Uno di questi sarebbe proseguire il suo lavoro che lui ha fatto appunto a Gaza, dove si è occupato di costruire la pace, di gestire in modo non violento i conflitti, dove si è occupato di informazione. Sarebbe bello se proseguissimo il suo lavoro. Sarebbe bello iniziare ad occuparci sul serio di come costruire la pace, iniziando magari proprio dal conflitto tra palestinesi e israeliani. E anche per questo sarebbe bello, e lo dico davvero senza polemica, se il Parlamento iniziasse a lavorare al più presto. Per concludere mi rivolgo a tutti i nuovi parlamentari, magari ce n'è ancora qualcuno in aula, di tutti i partiti e chiaramente del Movimento, perché Vittorio non appartiene a nessuno, Vittorio non credeva nei confini, nelle barriere, Vittorio non voleva essere sepolto sotto nessuna bandiera, nemmeno quella del popolo palestinese che amava tanto. Mi rivolgo a voi, che come me siete alla prima legislatura. Io penso che lavorare in Parlamento sia un onore, ma che sia anche un po' pericoloso. Il pericolo più grande è quello di distaccarci lentamente dalla realtà. Questo è davvero rischioso, perché se siamo tutti uniti, se siamo connessi con i cittadini, più prenderemo le scelte con i loro occhi e chiaramente meno sbaglieremo. Sbaglieremo. Possiamo contrastare questa minaccia, ce la possiamo fare come? Restando sul territorio, stando in mezzo alla gente, non dimenticandoci da dove veniamo, ma soprattutto possiamo scongiurare questo rischio di allontanarci dalla realtà ascoltando i consigli di Vittorio, leggendo i suoi scritti, perché lui prima di tutto amava scrivere e scriveva anche molto bene, umanizzando le nostre scelte proprio come faceva lui. Per questo è bello, soprattutto in quest'Aula, dopo due anni di eccessivo silenzio da parte delle istituzioni, far ribombare la frase che lo ha caratterizzato, per cui, Presidenti e colleghi deputati, restiamo umani. Ce lo chiede un ragazzo morto per la pace e ce lo chiedono i cittadini di tutto il mondo. Anche in questo caso, onore di Battista, credo che il consenso che arriva dall'Aula valga più di qualunque altra considerazione riguardo le sue parole. A questo punto, se non vi sono altri interventi, comunico il risultato delle votazioni per l'elezione di un segretario ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6 del regolamento, presenti 536, votanti 536, astenuti nessuno. Hanno ottenuto i voti Cirielli 85, voti dispersi 4, schede bianche 412, schede nulle 35. Proclamo dunque eletto segretario di Presidenza il deputato Cirielli. La comunicazione che sto per farvi è che, a seguito dell'odierna riunione della conferenza dei Presidenti di gruppo, è stato stabilito che la discussione generale del documento di economia e finanza DEF del 2013 avrà luogo lunedì 29 aprile, ore 15, con eventuale prosecuzione notturna e il seguito dell'odierna riunione.